Palla che termina ora nel cerchio di centrocampo tra i piedi di Tachinardi, sempre sulla destra a terra, servito Turam, parte ingaloppata Turam sulla fascia di destra, cross a centro area, c'è uno stacco di Maresca, rete! Stacco di testa da parte di Maresca sul cross dalla destra, è stato bravissimo il giocatore Maresca che ora, un po' simmiottando Ferrante, fa la parte del toro, si mette le dita sulla fronte a mo' di corna e va a ricevere l'abbraccio dei compagni, veramente un grande gol di testa, uno stacco di testa sorpreso nettamente.